Venerdì 24 febbraio 2017 si è tenuta a Bova Marina un incontro per discutere i problemi drammaticamente aperti anche in questo territorio. La crisi, non solo amministrativa che oggi vive Bova Marina, è solo un segmento di una situazione di disordine generale, la punta di un iceberg gigantesco. Questo disordine è provocato dal collasso complessivo dell'economia, dell'ordine sociale che determina passività e crollo di ogni punto di riferimento valoriale. Occorre rompere questa dinamica. Oggi il teatrino della politica ci propone le ruffe del Doporenzi. Da un lato un complesso di forze populiste reazionarie e dall'altro i ricostruttori del centro-sinistra si azzuffano per poter gestire la catastrofe sociale, cioè una situazione in cui, soprattutto nel sud, le masse sono costrette a una lotta drammatica per cercare di sopravvivere. Non occorre in questo quadro agitare retoricamente una bandiera. Bisogna invece agire con coerenza per riavviare il germe della coscienza dei lavoratori e dei giovani facendo rinascere dignità e speranza. In questo contesto è valida la proposta del PCL di sostenere la campagna referendaria della CGL contro i voucher e un lavoro dignitoso. Prossimamente si darà vita a una serie di iniziative, visione di film, mostre e dibattiti anche per costruire una rete di relazioni e per dare vita a una sinistra autenticamente e coerentemente anticapitalistica. Solo così sarà possibile abbattere il muro della sfiducia non coinvolgendo passivamente le persone ma che ognuno e tutti diventino consapevoli del loro destino. Grazie a tutti.